Ed ecco a voi la seconda parte Blastoise del set base Unlimited, voto 7.5, va bene, considerato l'età della carta Dragonite v Astro Hyper di Pokémon GO, voto 9.5, benissimo! Unica carta JAP, Mewtwo v Alternativo di Pokémon GO E qua, secondo me, ci scappa E lo sapevo, e lo sapevo, e andiamo, bellissima! Charizard Lucente di Pokémon GO, 9, bene, ottimo direi, 9, gran voto Altro stesso identico Charizard, e il voto è 9, va bene E per finire, questo Mewtwo v Astro Gold, sempre di Pokémon GO Mamma che label, e il voto è 9.5, peccato per mezzo punto, però gran bella carta Queste sono alcune delle carte che manderemo a gradare, seguimi per scoprire i voti